Tifo da stadio per Jaroslav Kaczynski, vero vincitore delle elezioni in Polonia e leader del partito nazionalista PIS, ovvero Partito del Diritto e Giustizia. E' lui, il gemello del presidente morto in un incidente aereo cinque anni fa, Lech Kaczynski, a chiamare agli onori del palco e del governo Beada Zlidlo, la donna che guiderà il nuovo esecutivo di Varsavia. Euro scettici e moderati, in linea con la tradizione polacca del Partito della Nazione, Kaczynski ha messo fuori dal Parlamento per la prima volta gli esponenti della sinistra, eredi del comunismo reale di Iaguseski, e di ottenere per un soffio, se le proiezioni elettorali saranno confermate, la maggioranza assoluta nel Parlamento, con poco più del 37% dei suffragi. Il risultato più ampio mai raggiunto in Polonia era un partito dal 1989, cioè dal ritorno della remucrazia dopo la caduta del comunismo sovietico. Molto indietro e praticamente inconsistente piattaforma civica, il partito della premier uscente Eva Kopacz, del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, con il 23% circa dei voti. Unica sorpresa, ma annunciata, il 9% di Pavel Kukic, il Beppe Grillo polacco. La piattaforma del partito vincente prevede aiuti alle famiglie con figli, promette la difesa della crescita economica, più 50% del PIL negli ultimi 10 anni e l'assistenza gratuita per gli anziani. Infine, chiusura nei confronti dell'immigrazione estera. Negativo e pesante il primo commento dell'ingombrante vicino russo a questi risultati. Grazie. Grazie.